Perché non raccontare una storia autentica e personale e farlo in modo creativo e coinvolgente? È possibile partecipando al nostro workshop di Digital Storytelling. Il Digital Storytelling è una tecnica che unisce l'arte della narrazione all'uso delle nuove tecnologie, con l'obiettivo di produrre video della durata di pochi minuti. È una metodologia estremamente adattabile. Si può utilizzare nella ricerca, nella formazione, nella valutazione delle attività e anche per quanto riguarda le imprese. Lavoriamo sulla creazione di storie per condividere esperienze, apprendere, promuovere e formare. Il workshop è aperto a tutti, formatori, manager, operatori culturali, ricercatori e studenti. L'utilizzo di un linguaggio universale permette di lavorare con gruppi provenienti da diversi contesti culturali. Tutti ha una storia e credo che sia un'empowering cosa di poter raccontare le nuove persone che hanno qualcosa per contribuire. Credo che ha un grande potenziale per dare le persone una voce, persone di diversi agei e backgroundi. Ho conosciuto, ho usato e ho piaciuto. Vieni a che tu raccontarci la tua storia. Vieni a che tu raccontarci la tua storia.